Era un volto noto alle forze dell'ordine, un lungo elenco di denunce e arresti e una specializzazione, il furto ai danni dei fedeli. L'uomo, un 68enne di origini partenopee, ma da anni residente a Padova, era già stato arrestato a fine luglio per aver borseggiato un fedele in preghiera al santo. Domenica ha voluto riprovarci, questa volta, all'interno della chiesa della Sacra Famiglia in via Aosta. Entrato in chiesa, come un normale devoto, ha individuato la sua vittima, una 73enne, le si è seduto dietro senza dare troppo nell'occhio ed ha atteso che la funzione procedesse. Quando la povera malcapitata si è inginocchiata in segno di devozione, il 68enne ha infilato una mano nella borsetta lasciata incustodita sulla panca e le ha sfilato il portafoglio. Convinto di non essere stato notato, il borseggiatore si è velocemente dato alla fuga. La fortuna, però, ha voluto che tra i fedeli ci fosse anche un maresciallo dei carabinieri fuori servizio, a cui non è sfuggito il borseggio. Ha subito allertato i carabinieri e ha inseguito l'uomo che è stato fermato in via Cavalletto da due pattuglie. Il bottino è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria. Il lado è stato arrestato per furto aggravato.